Buongiorno! Il giro di andata infatti nel turno che si giocherà mercoledì con posticipo del Teramo giovedì si chiuderà proprio il girone di andata nel girone B di Serie C. Vediamo i risultati maturati nel campionato con la vittoria proprio all'ultimo secondo dell'Albinoleff contro la Virtus Verona con un calcio di rigore di sbaffo in pieno recupero, il pareggio senza reti tra Gubbio e San Menettese. Rimini-Vispesano, un derby sicuramente vibrante con il Rimini che per gran parte dell'incontro ha giocato in dieci uomini per l'espulsione dell'ex Biancorosso Ferrani. Suttirolli-Molese, secondo gol consecutivo di Berardocco, Costantino subentrato ancora in corso di match, tutti indizi che porterebbero a un addio di Costantino alla squadra del Suttirolli. Lo staremo a vedere su Tirolo che Trapani sia l'ultimo avversario del 2018 per il Teramo perché poi inizierà subito il giorno di ritorno e si giocherà il 30 dicembre. La vittoria del Teramo, abbiamo detto De Grazia e Zecca ma soprattutto un Teramo davvero convincente contro la squadra Giuliana che resta seconda in classifica. 0-0 tra Fano e Vicenza, vittoria del Monza a Fermo e questo è sicuramente un risultato importante perché la Fermana soprattutto in casa aveva dimostrato ottime cose. Il pareggio tra Gianerminio e Pordenone, Berrettoni prima e poi il pareggio da squadra di Gorgonzola al 91esimo con Rocco, 0-0 per l'Alpi Renate e la vittoria del Ravenna contro la Ternana. Gara anche rocambolesca, Ravenna avanti di due reti, il pareggio della Ternana nel giro di 5 minuti tra la fine e il primo tempo all'inizio della ripresa e poi al 92esimo la rete del neo è entrato Boccaccini per il Ravenna che ha provocato un terremoto di fatto sportivo nella squadra Umbra del patron Bandecchi e del presidente Ranucci. Quarta sconfitta negli ultimi sette incontri per la Ternana, ce ne occupiamo in maniera specifica perché è il prossimo avversario proprio del Teramo. Nell'allenamento di ieri mattina a Terni, proprio alla ripresa degli allenamenti, visto il turno del 27 dicembre, De Cagno, il mister, non c'era perché era a colloquio con la società, si era ipotizzato un esonero, si facevano già i nomi di Drago, Calori e anche l'ex perugino Cosmi, invece di fatto in serata c'è stato un dietro fronte, di fatto De Cagno è praticamente confermato, probabilmente più perché si gioca subito rispetto ad altro con la società Umbra che non ha voluto cambiare da questo punto di vista, quindi De Cagno sarà in panchina, a meno di clamorosi ripensamenti proprio nelle ultime ore, ma si giocherà giovedì alle 14.30, però società attivissima alla ricerca di un direttore sportivo dopo l'addio di Danilo Pagni passato alla Viterbese, il nome più caldo che addirittura potrebbe essere ufficializzato già nella giornata di oggi o al massimo domani, dovrebbe essere quello di Luca Leone, ex lanciano attualmente al Pescara, staremo a vedere, e quindi molto movimento, soprattutto un ambiente scosso, quello di Terni, non ci si aspettava sicuramente un rendimento così negativo, almeno nell'ultimo periodo, per la squadra Umbra che ricordiamolo, il giovedì affronterà il Teramo alle 14.30, ne avremo modo di parlare sia nei prossimi giorni con i notiziari, ma soprattutto oggi pomeriggio, un appuntamento speciale alle ore 15 in diretta con Super Goal Walter Corri nel diciottesimo appuntamento stagionale. Tra parentesi, Teramo a vittoria è ancora più fondamentale perché le dirette concorrenti, possiamo vederlo dalla classifica, hanno ottenuto dei risultati importanti, perché Renate ha pareggiato, il fuoricasa a Salò, il Gianerminio contro il Pordenone, l'Albinoleffe ha vinto, quindi da questo punto di vista il Teramo ha riuscito a staccarsi comunque dalla zona, diciamo, caldissima della classifica, con però tre squadre a 16, Albinoleffe, Renate e Virtus Verona, poi 17 Gianerminio e Fanno, 18 il Gubbi, il Teramo si trova a quota 20, anche di fatto un tiro di schioppo da Rimini e San Menettese che pensano ai playoff. Fintesta, il Pordenone di fatto anche con il pareggio fuori casa a Gorgonzola, a lunga perché la Triestina ha perso, la Vispesaro non ha pareggiato, la Fermana ha perso, quindi accorcia le distanze solo il Ravenna che è splendida sorpresa di questo campionato, adesso si trova al secondo posto al pari della Triestina. Lasciamo di fatto il campionato di Serie C, vi ricordo ne parleremo approfonditamente nell'appuntamento di Super Goal in diretta alle ore 15, scendiamo nel campionato di Serie D, anche in questo caso andiamo a vedere un po' i risultati maturati perché molte gare sono state giocate di sabato ma altre sono andate in scena ieri, regolarmente 4 sono stati i match disputati nella giornata di ieri, vediamo i risultati maturati con il pareggio tra Isernia e Matelica per 1-1, la vittoria della Jesina 1-0 con la San Giustese la vittoria del Monte Giorgio contro il Castelfidardo, quella del Vastese con la Gnonesia il pareggio interno del Notalesco contro il Sant'Arcangelo. Fra poco andremo a vedere anche diversi servizi proprio perché con Super Goal alle 15 mancherà di fatto l'appuntamento con Serie D in gol ma anche all'interno di Super Goal ci saranno dei servizi soprattutto riguardanti le squadre terramane e abruzzesi in particolar modo. In classifica si è chiuso il girone d'andata, si è chiuso il 2018, un po' la chiusura di questo girone F per quel che riguarda l'anno solare e i battenti in questo caso riprenderanno il prossimo 6 gennaio lunga sosta per le squadre dopo un tour de force incredibile che da metà settembre ha del giro praticamente di tre mesi, sono stati giocati 19 giornate di campionato, si era partiti il 16 dicembre il 23 dicembre si è arrivati alla conclusione del girone di andata. La classifica che vede in testa il Cesena con 44 punti, Matelica 40, San Giustese 33, Pineto Recanetese 32 e qui si chiude la zona playoff ai margini della zona playoff Francavilla e Notaresco che di fatto su 19 giornate è uscito proprio dalla zona playoff proprio alla diciannovesima e comunque ha due punti, a tre punti anche dal terzo posto e a due punti dalla zona playoff. Il Real Giuliano è a quota 24, l'altra abruzzese Avezzano a quota 18 ma sta muovendo passi importanti per tirarsi fuori dalla zona calda, chiude il Castelfidardo a quota 12. Questo per quel che riguarda i numeri maturati nel turno giocato tra sabato e domenica ma adesso iniziamo la rassegna di contributi con l'intervista realizzata negli spogliatoi dello stadio Vincenzo Savini con il presidente del notaresco Salvatore Di Giovanni che parla della partita di ieri, traccia anche un bilancio, fa gli auguri ma anche a qualcos'altro. Andiamo a sentire. Presidente di Giovanni, il 2018, il giorno di andata diciamo si chiude con un pizzico di rammarico, pareggio interno, vittoria che manca dal 14 novembre. Questi sono i numeri, ho detto già a tuo collega, abbiamo disputato una grande partita, soprattutto un grande primo tempo, però se le azioni da gol che facciamo non le concretizziamo è chiaro che prima o poi possiamo prendere gol, così come è stato nei primi minuti del secondo tempo e dopo è stato difficile logicamente ribaltare il risultato, quindi questo è quanto insomma. Potevamo e dovevamo vincere questa partita, purtroppo abbiamo pareggiato, ci prendiamo un punto ma noi ribadisco sempre che l'obiettivo era la salvezza e tale deve rimanere. Dopo eravamo partiti sparati, cinque vittorie mi sembrano le prime cinque partite, quindi è chiaro che la seconda parte è stata sicuramente negativa, ma è quello che ci aspettavamo sin dall'inizio, forse eravamo andati troppo forti all'inizio e quindi questo è il campionato, qui si può vincere, secondo me è molto livellato, si può vincere con chiunque e si può perdere con chiunque, però ci vuole anche un pochettino di fortuna e credo che ci abbia abbandonato da diverse partite. Nella seconda parte della scorsa stagione, quindi nella prima metà del 2018, una cavalcata per portare alla salvezza il San Nicolò. Sì, è stata così, ci siamo salvati con i play-out l'anno scorso a San Nicolò e quest'anno siamo venuti a Notaresco, una grande piazza, abbiamo praticamente quasi tutto e stiamo facendo anche bene, questo lo voglio rimarcare sempre perché io avrei messo la firma all'inizio il campionato con i 30 punti al girone da andare, quindi non possiamo chiedere niente perché è una squadra giovanissima, oggi giocavamo con sé fuori quota, quindi io penso che stiamo facendo il massimo. Al dire dei risultati, infatti proprio questo è un dato importante, tanti giovani, 2-2001 in campo stabilmente da inizio stagione con Blando che è entrato a far parte anche della rappresentativa di D. Sì, hai detto bene, di questo ci dobbiamo vantare, deve essere un orgoglio per la società perché oggi so che c'erano diversi osservatori di squadre di serie B e di serie C, questo sta a significare che i ragazzi stanno facendo bene, stanno giocando bene e che abbiamo scelto e poi tra parentesi, ripeto, che sono giocatori di proprietà dell'SN Notaresco, quindi questo deve essere un punto d'orgoglio per tutti noi, per me personalmente ma anche per la città di Notaresco perché avere dei ragazzi, il 2001, osservati da tanti osservatori di squadre importanti, questo per noi deve essere veramente un orgoglio. Un 2019, un aspettativo, un traguardo proprio in vista del nuovo anno, visto che si tornerà a giocare il 6 gennaio? Innanzitutto voglio fare un augurio di Buon Natale e di Felice Anno Nuovo a tutti quanti, a tutti i telespettatori, a tutti voi, a tutta la società, a tutti. E' chiaro che il 2019, speriamo che sia come il 2018 perché è stato sicuramente un anno positivo e quindi noi, ripeto, dobbiamo salvarci, tutto quello che viene significa che abbiamo fatto bene. E' chiaro che ci dispiace perché eravamo in zona playoff, lo siamo tuttora perché credo che siamo a uno o due lunghezze dei playoff, quindi questa era una squadra che si doveva costruire per salvarsi e secondo me siamo la sorpresa in positivo di questo campionato, quindi questo ci deve fare onore. Eh sì, è proprio così ovviamente un momento di flessione anche all'interno di una stagione ci può stare. Il notaresco da questo punto di vista ha avuto la fortuna di non perdere gli incontri, anche perché non vince da sette gare, come abbiamo visto nella rassegna stampa, ma sono arrivati comunque cinque pareggi e due sole sconfitte, una di fatto a Cesena, Rocambolesca e ve l'abbiamo descritta nei giorni scorsi. Iniziamo con la rassegna di servizi, andiamo al Tubaldi di Recanati per vedere il rotondo successo 4 a 1 della Recanatese con il Forlì doppietta di Sivilla che raggiunge in testa la classifica dei cannonieri a quota 11, Minella del Notaresco e Leonetti della Vastese. Andiamo a vedere il servizio Recanatese e Forlì, 4 a 1. La Recanatese annichilisce il Forlì, giocando con grinta, intensità e qualità per quasi tutti i 90 minuti, ed anche approfittando, perché no, di diverse scelleratezze compiute dagli ospiti che arrivavano al Tubaldi sulla scia di quattro risultati utili consecutivi. Senza Lunardini e Comperi in panchina, i giallorossi hanno interpretato la gara come meglio non potevano, approcciando con la determinazione giusta e mantenendo questo atteggiamento fino a quando il risultato non è stato definitivamente al sicuro. In realtà non c'è mai stata una vera incertezza su come potesse finire la contesa. Da una parte una compagine ferocemente sul pezzo, dall'altra una squadra quasi svagata e rassegnata sin da subito al peggio. Ad agevolare le cose è arrivato anche il gol, dopo poco più di un minuto, angolo di Olivieri e Nodari stacca di testa in perfetta solitudine, battendo l'incolpevole portiere. Un episodio che dà subito un'impronta precisa al match, come sottolinea anche il tecnico ospite Stefano Protti. Questa è la gara nata male e finita nello stesso modo. Sì, sì, purtroppo abbiamo avuto un approccio sbagliato. La prima palla messa dentro l'area abbiamo preso un gol, è vitabilissimo. Poi c'è stato un incatenarsi di situazioni, una peggio dell'altra. Oggi abbiamo fatto sicuramente la peggior partita da quando sono fuori lì. Strano perché venivate da un momento eccellente. Ah beh, ma i momenti nel calcio non è che. Ogni domenica c'è un risvolto diverso e oggi una volta che una partita la prepari in un certo modo e dopo un minuto di gioco prende un gol su una palla inattiva del genere contro una buona squadra diventa tutto più complicato. Poco dopo un brivido lo regala l'ex Marchetti cercando il pallone ma Baldinini da posizione defilata non riesce a concretizzare. Al dodicesimo arriva il raddoppio. Palla persa dal Forlì che innesta Olivieri che a sua volta libera a Sivilla. Cascione e Vesi non chiudono e per l'attaccante leopardiana un gioco da ragazzi in filare semprimi. I paroni di casa sono in totale d'assoluto controllo. Palmieri è indiavolato sulla sinistra e viene atterrato al limite. Punizione di Olivieri ribattuta dalla barriera e sul proseguio il gol di Sivilla viene annullato per fuori gioco. I romagnoli si fanno vedere dopo la mezz'ora con uno spunto di D'Angeli. La palla forse sfiorata da Del Sante sorprende Piangiarelli ma è tutto fermo anche qui per offside. Il gioco messo in mostra dai giallorossi è anche piacevole come certificato da un'azione di Borrelli il quale appoggia per Sivilla che libera Palmieri il cui tiro sfiora l'incrocio. Il fornifara Chidi ad inizio ripresa è il settimo con uno sciagurato retropassaggio di testa di Baldinini che sorprende Semprini che si infortunia cercando vanamente di contrastare Sivilla che appoggia in rete dopo che la sfera ha colpito la traversa. E' un monologo con Palmieri che si vede annullare un gol con molti dubbi che restano dalla tribuna. Gli ospiti cercano comunque di reagire, Cortesi viene murato da posizione insidiosa dopo un errore di Marchetti e le distanze vengono accorciate al ventiquattresimo su azione dalla destra con un vero di Del Sante che permette al neo entrato Ambrosini di insaccare di piatto destro. Partita riaperta neanche per sogno, cinque minuti dopo splendida combinazione tra Sivilla e Palmieri chiusa da quest'ultimo con un diagonale che non lascia alcuna possibilità a mordenti. Abbiamo visto dunque i riflessi filmati della gara tra Reganatese e Forlì 4 a 1 pietta di Sivilla. Andiamo avanti con la gara del Carotti di Iesi, una delle cinque vittorie interne di questa ultima giornata del girone di andata nel campionato di serie di girone F. Iesina-Sangiustese anche a sorpresa questo incontro perché la Iesina era in un momento davvero negativo, la Sangiustese terza in classifica, è finita 1-0, il gol subito all'esordio al secondo minuto tra parentesi di Cruz Pereira, attaccante brasiliano prelevato dalla Iesina dall'este, formazione di Padova con cui aveva giocato questa prima parte di campionato. La sconfitta di Iesi tra parentesi è anche la prima esterna per la Sangiustese. Vediamo il servizio. La Iesina trova tre punti sotto l'albero vincendo il derby con la Sangiustese per 1-0 in una partita in cui è saputo vincere e convincere. I rosso-blu sono giunti a Iesi con l'etichetta di autentica sorpresa del campionato ma hanno sofferto i ritmi alti tenuti per tutti i 90 minuti dai leoncelli e i giocatori più talentuosi non hanno trovato il feeling giusto con un terreno di gioco in condizioni tutt'altro che buone. Mister Ciampelli fa debutare dal primo minuto il neoacquisto Cruz Pereira in avanti e come vedremo la mossa sarà decisiva ma deve rinunciare a Nonni. Mister Zenigayesi invece spedisce in panchine pezzotti e si affida al collaudato 4-2-3-1. Che non sarà un pomeriggio noioso lo si capisce fin da subito perché la Iesina impiega appena 82 secondi a trovare il vantaggio con Cruz Pereira che si traveste da Babbo Natale e regala il sigillo vincente ai nuovi tifosi. Su una palla che sembrava innocua l'attaccante Biancorosso ingaggia un duello con Scognamiglio, lo beffa con Astuzia e poi trafigge Chiodini. Iesina in vantaggio. A questo punto la Sangiustese prova fin da subito a fare la partita ma senza idee e i rifornimenti per Chiodira arrivano con il contagocce. La Iesina invece sembra avere la brillantezza giusta e si appoggia molto sull'ispirato Cameruccio e su Ricci, autentico spauracchio per la difesa Sangiustese. Al ventunesimo Cruz Pereira, questa volta in veste di rifinitore, serve Ricci che cerca la stoccata vincente ma la palla finisce al lato. La Sangiustese non trova la reazione giusta ed anzi si nervosisce, alla fine saranno ben 5 gli ammoniti, mentre la Iesina aumenta in fiducia. Al trentacinquesimo, su una punizione dalla tre quarti, sponda di testa di Marini che trova Riccio, ma il difensore da ottima posizione non concretizza con l'inzuccata che non trova la porta. Si va negli spogliatoi sull'1-0 e nella seconda frazione di gioco la Iesina non abbassa il proprio baricentro ed anzi cerca ripetutamente il raddoppio. All'undicesimo Caparbi, azione di Ricci che poi serve Cameruccio, l'esterno Leoncello cerca l'Eurogoal con il tiro a giro, la sfera finisce alta ma la giocata è comunque apprezzabile. Ancora Iesina pericolosa al diciannovesimo con Bordo che su punizione scalda i guantoni di Chiodini che mette in angolo. A metà del tempo cresce la Sangiustese che in un paio di minuti crea pericoli per Anconetani. Al ventitroesimo Camerà, subentrato a Cerone, prova a creare scompiglionaria ma è provvidenziale il ritorno della difesa a Leoncella. Due minuti dopo, al venticinquesimo, ci prova Pezzotti dalla distanza ma Anconetani è pronto. Subito presente Pezzotti che a sorpresa era stato messo in panchina. Ma è solo un fuoco di paia perché la Iesina riprende in mano le redini del gioco e al ventisettesimo avrebbe l'occasionissima per raddoppiare, ma questa volta Magnanelli, dal cuore dell'area, spara incredibilmente alto. Il prevedibile assalto rosso-blu nel finale di partita in realtà non c'è e al novantatreesimo l'espulsione di Magnanelli per la Iesina è soltanto un brivido. Può festeggiare dunque il pubblico del Carotti. In un 2018 avaro di soddisfazioni sul campo, la Iesina si regala una bella vittoria lasciando buone sensazioni per il futuro dunque. Provvidenziale invece la sosta per la Sangiustese che è apparsa un pochino stanca mentalmente e fisicamente. Ribadisco il finale da Iesi, Iesina batte Sangiustese 1-0. In un'altra gara, giocata sabato al nuovo Romagnoli, 0-0 tra Campobasso e San Maurese. Prosegue però la serie utile dei Molisani che arrivavano da tre vittorie consecutive. Non perdono dal 18 novembre scorso. In casa fu contro il Real Giulianova e è arrivato uno 0-0 contro la San Maurese con il Campobasso che però ha anche fallito. Un calcio di rigore. Vediamo il servizio. Finisce a reti inviolate al nuovo Romagnoli la partita tra Campobasso e San Maurese con la squadra di Mister Bagatti che sbaglia anche un rigore. Passiamo alla cronaca. Al quinto si fa vedere Lupo con Antonelli servito al limite dell'aria. Prova il destro, palla al lato. Al diciassettesimo squillo della San Maurese con Lombardi che prova la conclusione da fuori aria. Palla in out. Al ventiduesimo ancora la San Maurese sulla sinistra. Luati va al tiro di sinistro dal limite dell'aria. Palla alta sulla traversa. Al ventisesimo calcio di rigore per il Campobasso. Grande assist di Musetti in aria che serve Giacobbe. Quest'ultimo nettamente atterrato da un difensore ospite. Dal dischetto proprio Giacobbe che cerca l'angolo alla destra del portiere. Che ci arriva e deve in corner. Rigore parato. L'ultimo squillo del primo tempo è per il Campobasso al quarantunesimo con Danucci che dai 30 metri prova un grandestro che termina però alto sulla traversa. Nel secondo tempo al quarantasesimo prova il tiro da fuori aria di Paolo ma la conclusione termina alta sulla traversa. Al cinquantaquattresimo ancora il Lupo. Di Lauri se ne va sulla destra e mette in mezzo per Alessandro che stoppa ma non riesce a coordinarsi per il tiro. Il secondo tempo trascorre con lentezza con le due squadre poco pericolose. Ma l'occasione più pericolosa è per il Campobasso all'ottantanovesimo con Musetti di testa su corner di Danucci. Palla di un soffio a lato. Termina qui una partita a vara di emozioni. Sono state in tutto 23 le reti messi a segno in questo turno di campionato che come detto è andato a chiudere il 2018 ma anche il giorno di andata. Ci sono state cinque vittorie interne, quattro pareggi ed una sola esterna che è stata anche la prima stagionale lontano dal Vallanzucca per il Francavilla. Noi possiamo far scorrere le immagini. La gara si è giocata sabato a Martorano di Cesena con la Savignanese. Savignanese che arrivava da un periodo un po' poco fortunato. Il Francavilla invece dal 2-0 contro l'Isernia con doppietta di Dos Santos. Questo è l'ingresso in campo, Francavilla che giocherà in maglia bianca, Savignanese con la maglia blu, con risvolti gialli, un po' di stile Boca Juniors. Si parte subito forte perché il Francavilla che non ha messo in campo dall'inizio Palumbo che era uscito malconcio dalla gara contro l'Isernia. Inizia come detto subito forte. C'è questa conclusione all'undicesimo minuto con il palo colpito da Mancini. Subito dunque Francavilla vicino al gol. Al 25esimo invece un'occasione per Montagnoli. Arrivato dal Castelfidardo spinto da dietro. Ci sarebbero gli estremi per il calcio di rigore. L'arbitro Cosseddu di Nuoro non lo ha accordato. Ne accorderà uno al 95esimo. Davvero un po' dubbioso con le grandi proteste per la formazione Savignanese che ci prova adesso. Ma è ancora il Francavilla che si fa vedere in avanti con una conclusione dalla distanza ben parata dall'estremo difensore della Savignanese Pazzini. Si va al riposo. Dicevamo si è giocato sabato a Martorano di Cesena. Savignanese che ancora non riesce a giocare nel proprio campo per lavori di ristrutturazione. Nel secondo tempo con il passare dei minuti il Francavilla cresce. Entrerà in campo anche Palumbo. Adesso c'è questo calcio d'angolo, il colpo di testa con pallone che è terminato sul fondo. Ma un altro calcio di punizione viene un'altra occasione per il Francavilla con salvataggio sulla linea da parte dell'ex difensore del Teramo Angelo Gregorio. Dunque Francavilla ancora vicino al gol. Spinge ancora la formazione di Mr. Rachini con Banegas che va alla conclusione. Ancora la parata di Pazzini e adesso invece con l'ingresso in campo di Tamagnini per la Savignanese. Ci sono delle occasioni pericolosissime della Savignanese. Il passaggio per Longobardi. Bravissimo Spataro in uscita. A negare al gioco della rete all'attaccante esperto della formazione della Savignanese che si prova ancora col pallone fuori. Ma il duello tra Spataro e Longobardi proseguirà ancora. Ancora qui la conclusione affrettata sicuramente da parte di Longobardi. La parata a terra di Spataro è ancora un'occasione col passare dei minuti al 79esimo per la Savignanese. Sempre con Longobardi c'è questo pallone che viene rimesso in area di rigore del Francavilla. Il pallone proprio arriva a Longobardi che ci prova di prima intenzione. Bravissimo Spataro a deviare in angolo. Questa è l'occasione del Savignanese che ci prova ancora prima del novantesimo con la conclusione fuori dove Manuzzi non arriva all'appuntamento con la direzione vincente. Poi battuta del calcio d'angolo. Colpo di testa di Bedin. Mani o presunto tale fallo di Mani da parte di Vandi. Fatto sta che l'arbitro, Cosseddu Di Nuoro, accorda la massima posizione, trasforma Palumbo per il vantaggio della Francavilla con la Savignanese che di fatto non ha avuto chance di recupero perché eravamo al minuto 95. Dunque Francavilla che vince a Martolan Cesena. Vedete le proteste da parte dei giocatori romagnoli. Ma il Francavilla porta a casa la sua prima vittoria stagionale in trasferta. grazie al rigore trasformato da Palumbo al minuto 96 con quel fallo di Mani molto dubbio da parte delle immagini. L'arbitro ovviamente nella vicinanza ha accordato la massima punizione alla formazione del Francavilla da Abruzzese. Ovviamente ci fa piacere per questa vittoria del Francavilla. Noi andiamo all'Ancellotta di Sernia. Gara giocata regolarmente domenica. Isernia-Matelica 1-1 con i marchigiani che erano in precarie condizioni viste le diverse assenze per squalifica ma hanno pareggiato solamente al novantesimo evitando così un'altra sconfitta. Perdono comunque terreno dal Cesena a Isernia e finita 1-1. Nei minuti finali il Matelica strappa un punto all'Isernia ed esce in denne dallo stadio Langellotto di Isernia per ultima in classifica nell'ultima giornata del girone d'andata di Serie D. E lo sicco ad evitare la seconda sconfitta consecutiva ai biancorossi di Tiozio che perdono un ulteriore terreno rispetto alla capolista Cesena. Albitra il signor Centi di Viterbo coadiuvati da Collu di Auristano e Fell di Moro. Sempre nella ripresa è stato Ciccone a portare avanti i ragazzi di Silvar. Il girone di ritorno si albira nel giorno dell'Epifania. Calemure amiche, Isernia ospederà il Forlì. Passiamo alla cronaca. E' il Matelica che approccia meglio il match. Bittaglie ci prova con una conclusione facile preda Titano. La risposta di Isernia non si fa attendere, ma Avella è bravo in due circostanze. Mentre il numero uno locale respinge il colpo di testa di Florian, su punizione battuta dall'Osicco. Scivola così un primo tempo a scialbo. E finisce così il primo tempo. I biancorossi di Chiozzo paltano bene anche nella ripresa. E appena a due minuti mettono paura ai locali. Al quarto d'ora della ripresa, Avella salva il risultato. Poi Benedetti sfiora la traversa sugli sviluppi di un corner. Alla mezz'ora Margarita asciupa un aghiotto occasione, calciando sul corpo di Tano. Isernia però passa in vantaggio al trentaseesimo, trascinato da Ciccone. Il Matelica però non demorde e perviene al pareggio al ridosso del novantesimo con l'Osicco, il quale lancia l'assalto finale dei biancorossi, che però non produce i frutti sperati. Un risultato che non può far bene sia al Matelica che a Isernia. Questa è l'analisi dei due tecnici. Per come si era messa, una squadra normale perde oggi. Una squadra come la nostra pareggia. Però Isernia penso abbia fatto un mezzo tiro in porta su quello svarione lì, dove chiaramente c'è stato un errore. Ma poi basta pensare che tre minuti prima ha fatto un miracolo su Margarita il portiere. Noi, il primo tempo è stato un primo tempo dove loro hanno provato ad alzare la pressione. Fino a un certo punto, perché giocavamo praticamente con la capolista, e noi avevamo moltissimi problemi. Avevamo solo 12-13 giocatori effettivi a disposizione, e quindi avevamo grandissimi problemi. E quindi portare anche a casa un risultato positivo è stata una grandissima prestazione. L'avevamo preparata in maniera proprio... Eravamo pochissime ad allenarci. Abbiamo preparato una partita così, credo per 70 minuti abbiamo fatto crose grandiose. Forse una delle partite più emozionanti della mia carriera. Io sono sempre il presidente d'accordo, io lotto facciamo, però devono arrivare due o tre rinforzi, bisogna avere i cambi, se no diventa durissima. E chiudiamo la rassegna dei servizi. Vi ricordo che quelli relativi alle altre scuole abruzzesi, in questa rassegna abbiamo visto il Francavilla, perché le immagini sono arrivate all'ultimo istante, e sono praticamente, ve li faremo vedere, Notaresco, Pineto, Giulianova, ma anche la Vastese, che ha giocato ieri e vinto contro l'Agnonese, nell'edizione di Super Goal, una puntata speciale, in onda alle ore 15, che prende un po' il posto di Serie D in gol, ma ovviamente il campionato di Serie C non si ferma come la Serie D, ed è giusto parlare del terreno, del prossimo impegno a Terni di giovedì alle 14.30. Chiudiamo questa rassegna di servizi andando a Monte San Giusto, che è stato il campo del Monte Giorgio per questo girone d'andata, vedremo se nel giorno di torno la squadra di Massimo Paci potrà giocare sul proprio campo, anche in questo caso, così come per la Savignanese, ci sono lavori di ristrutturazione. Monte Giorgio che vince 2-1 contro il Castelfidardo per i Marchigiani e la terza vittoria consecutiva, più il pari di Notalesco, quarto risultato utile consecutivo per i Rosso-Blu, che hanno tratto giovamento dalle operazioni di mercato, dai rinforzi operati dalla società. Il Castelfidardo di Mister Vagnoni, invece, è arrivato al quinto stop consecutivo. Monte Giorgio e Castelfidardo non possono concedersi distrazioni natalizie. L'ultima sfida del 2018 mette in tavola punti pesanti per l'obiettivo salvezza che accomuna le due compagini marchigiane. Il Monte Giorgio, padrone di casa, sembra aver raggiunto una quadratura tattica e mentale adeguata per la categoria. Il pareggio esterno con il Notaresco e i successi con Giulianova e Agnonese hanno proiettato i ragazzi di pace fuori dalla zona pericolo. Langue all'ultimo posto il Castelfidardo di Mister Vagnoni, chiamato all'impresa ardua ma non irrealizzabile, di salvare i Castellani dalla retrocessione. Il bilancio di quattro sconfitte nelle ultime quattro partite non deve ingannare. I fiderdenzi hanno espresso buone prestazioni contro avversari quotati. Sotto il punto di vista della personalità, i biancoverdi hanno mostrato importanti passi in avanti. Ci si attende un mercato natalizio corposo per migliorare l'organico in tutti i reparti. Dirige Picchi della sezione di Lucca in un pomeriggio non particolarmente rigido. Al quinto subito un episodio da Moviola che scatenerà le proteste di Mister Vagnoni. Su un angolo dalla destra per il Castelfidardo, Calabrese infila Menegatti sotto misura ma l'arbitro annulla per offside. Proteste vibranti degli ospiti, episodio poco lineare da rivisitare con grande attenzione. Partita molto spigolosa, spazi intasati soprattutto nella zona centrale, spunti di cronaca ridotti al minimo sindacale. Al venticinquesimo Di Lollo cerca di beffare Menegatti sul primo palo ma all'estremo Montegiorgese si rifugia in calcio d'angolo. Paci passa al 3-5-2 con Albanesi seconda punta accanto a Sbarbati. Al trentacinquesimo proprio Albanesi dalla destra cerca Pellizzi a centroare la difesa biancoverde. Si salva alla disperata. Cresce il Montegiorgio più disinvolto e spergiudicato con il nuovo sistema di gioco. Al quarantaduesimo Ghiani vince caparbiamente un contrasto e va verso il fondo. Crosse radente per Pellizzi che questa volta batte tutti sul tempo per l'1-0 del Montegiorgio. Casselfidardo colpito al cuore dopo un primo tempo nel complesso dignitoso. Gli ospiti cominciano a regalare palloni sanguinosi sulla tre quarti. Il Montegiorgio ne approfitta senza esitazione alcuna. Al quarantaduesimo Sbarbati dal limite, Fredda Barbato per il 2-0. Magistrale il numero 9 di casa per la preparazione e l'esecuzione del tira. Squadre al riposo sul 2-0. Vagnoni lascia negli spogliatoi Dercole e Petraruro per inserire Massi e il Colored Diuf. Ospiti ora disposti con il 4-3-3. Diuf e Severini agiscono ai lati di Calabrese. Proprio Calabrese all'ottavo incrocia con il destro. Menegatti è attento. Il doppio vantaggio non rassicura pienamente Mr. Paci che richiama in panca Pellizzi per il più difensivo vecchione. Al ventunesimo Sbarbati conclude da posizione centrale. Barbato voloca un minuto dopo sforbiciata di Severini che strappa applausi ma non impensierisce. Menegatti. Il Castelfidardo non demorde nonostante le evidenti difficoltà di costruzione del gioco. Al ventiseiesimo colpo di testa ai Giovagnoli di poco a lato. Su angolo dalla destra. Il Montegiorgio controlla le sfuriate bianco-verdi senza disdegnare ripartenze pericolose. Al trentanomesimo Barbato salva su Albanesi servito da Presmans. Sugli sviluppi del corner successivo il neoentrato Marchionni spara fuori da posizione di centrale. Allo scoccare del novantesimo gli sforzi del Castelfidardo trovano il meritato premio. Di Lollo sfrutta una dormita della difesa del Montegiorgio e infila Menegatti per il gol della bandiera del 2-1. La rete del Castelfidardo aggiunge Pepe ai minuti di recupero ma il Montegiorgio non si lascia sfuggire tre punti fondamentali per la salvezza. 2-1 il finale per i padroni di casa. Tre vittorie e un pareggio nelle ultime quattro partite per il rosso-blu che passeranno un Natale sereno e spensierato. Il gruppo sta crescendo sempre di più nella mentalità e nella gestione della partita. Mastica Amaro invece il Castelfidardo sempre più ultimo in classifica. La squadra di Vagnoni esce sconfitta sul piano del risultato ma va elogiata per l'impegno e la volontà sprigionati fino all'ultimo istante. Di Lollo che è ex notaresco che ha trovato il primo gol con la maglia del Castelfidardo guarda caso l'ultimo gol, l'ultima vittoria del notaresco è datata 14 novembre proprio 2-1 al Pineto e il gol decisivo fu segnato proprio da Di Lollo poi trasferitosi nella finestra di mercato di dicembre al Castelfidardo insieme all'attaccante Petrarulo. Abbiamo finito questa rassegna di servizi gli altri per quel che riguarda le abruzzesi e le terramane in particolare ve li proporremo nella puntata speciale in onda alle 15 di Super Goal con Walter Cori e gli ospiti noi avremo modo di farci proprio in occasione di Super Goal e gli auguri di Buon Natale una chiusura dedicata al basket perché abbiamo detto la sconfitta del Roseto a Verona quella del Giulianova in anticipo in Serie B contro Pescara quella di Campli a Porto Sant'Elpidio con l'ex Serroni in giornata di Grazia 28 punti e quella del Teramo 73-77 contro il Chieti dopo un tempo supplementare qui bisognerebbe fare un'annotazione sul Palace Capriano non sinceramente un bel biglietto da visita per la città di Teramo ieri gran parte della partita soprattutto dal quarto quarto in poi si è giocato in penombra perché a un certo punto si sono spenti i fari del Palace Capriano nella parte soprattutto dietro alle panchine e soprattutto si è giocato di fatto in un freezer perché probabilmente non funzionavano i riscaldamenti è strano vedere in un palazzetto l'allenatore di Chieti di fatto è testimone che ha seguito la partita in piedi sì ma con il giubbino e sicuramente questo così come gran parte degli spettatori sicuramente questo non è un bel biglietto da visita chiudiamo qui questo appuntamento della vigilia con prima di tutto un cordiale saluto e più felici auguri di buone feste e di buon Natale da parte di Simona Marziani che è in regia e da parte mia l'appuntamento con l'informazione comunque alle 14 con la prima edizione del Tg alle 19.15 la seconda edizione del telegiornale alle 15 invece ricordiamo Super Goal a tutti buona giornata e buona settimana a tutti buona giornata 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 Grazie a tutti.